bella a tutti ragazzi l'idea di Dario allora ragazzi abbiamo messo sottolineiamo l'idea di Dario esatto l'idea di Dario anche se chiamerei così comunque abbiamo deciso di simulare ho deciso di simulare la finale Germania-Argentina giocandola cioè il gioco la gioca per noi esatto e vedere come andrà a finire è un'ottima idea praticamente allora Davide non piace quindi faremo così vediamo sperando che vince la Germania perché io ti faccio male forza gentile forza Germania ok ragazzi inizia la partita inizia quella partita su Einstein che dirà gross su Einstein scusa che io ti faccio che dirà se ne che dirà la mette subito in avanti per Müller 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 filtrate perfetto close close errate 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 al terzo minuto close e così sarà e così sarà grande close grande close Argentina sotto di un gol rette grande close bravissimo guardate gli argentini piangere coglione piangere guardate che organizzazione la Germania distruttiva dove va la Germania provoca distruzione grande cosa paleta mette in mezzo rete andiamo Gonzalo Higuain c'è 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 Germania attenzione rete è rete è rete close doppietta ancora lui ancora lui 2 a 1 2 a 1 e finirà così ragazzi attenzione toni cross rete toni cross a 30 quattresimo 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 come ti senti guardate come festeggiano come festeggiano yeah mamma mia ma c'è molta ma c'è dritto errori inizia il secondo tempo Messi Lionel subito già l'argentina si fa trovare ben organizzata in avanti vedo il corpo di tacco di Perez mascherano eh però falla lì indietro dai Argentina dai Argentina per Zanetti per Messi per voi grandi campioni dai ragazzi Messi ancora Messi si accende se si accende Messi tutti ti ammalenetti se si accende Messi tutti ti ammalenetti ancora ragazzi la Germania ancora la Germania Mühler 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 pallonetto fatta c'è ancora la Germania con Kross 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 Mühler che tira che tira che tira che tira e ancora la vada rimane lì in mezzo non ci credo no no che siete viva l'argentino no no non si può ragazzi ma che culo dai brutta bravura ah ah dai alciò da un angolo Davide si uncazza col joint p Hazor palo 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 la Germania ancora la LAM Mühler Mühler 夏 attenzione ancora niente ripartiamo ripartiamo ora mi è più ora mi è più per rialzare ora mi è più per rialzare Perez dai dai Zafajet dai dai prova Perez dai qualcuno scatta si infortuni a cago cago di notte diamo la linea a entra Rodrigo entra Rodrigo che fa doppietta entra Rodrigo entra Rodrigo quindi riesce a cago diamo la linea a Gian Bruno che ci dà delle informazioni ci dà delle informazioni su cago si cago si è spaccato la gamba gli sta uscendo tutto il sangue interno le vene arteriose della gamba gli sono scoppiate perderà la gamba sarà imputato imputato sarà amputato non potrà più giocare a pallone non potrà mai più giocare a pallone a meno che non decida di giocare con la gamba grazie Gian Pietro Gian Bruno niente la partita ancora come voleva si dimostrare come era giusto che era la vezzi la vezzi dai ragazzi nulla è impossibile nulla è impossibile nulla è impossibile 5 minuti più recupero nulla è di merda attenzione alla Germania dalla fascia arriva un cross perfetto osil osil mette palo a terra spiora il palo proprio di 3 millimetri li ho contati io mamma mia quasi dentro peccato la Germania mangia molti monti vince la Germania e così sia finisce qui ricordiamo 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 che per autografi siamo qui appena no vabbè ricordiamo che che in tutti i video dei mondiali è stato sempre il contrario ragazzi sempre il contrario del nostro risultato quindi Argentina vincerà tra due punto e va no assolutamente guardate qui con la festeggia dei bastardi che hanno che non hanno meritato la vittoria andate a casa Argentina andate a casa nella realtà vinceranno ragazzi succederà il contrario quando giocavamo io contro Davide questa volta è stimolata la partita non giocavamo io contro D3 giocavamo insieme è la stessa cosa inira diversamente ragazzi inira diversamente guardate i poveri che così argentini che piangono piangero ottima ragazzi vedremo adesso premiazione ottima non c'è premiazione non c'è la premiazione perché non hanno i soldi per fartela vedere comunque ragazzi inizia qui il video un saluto da Davide ciao ragazzi